Buongiorno a tutti ragazzi della Terza Artistico, dunque oggi quarta video lezione dedicata al canzoniere di Petrarca, è una quarta poesia, erano i capei d'oro a Laura Sparsi, sul vostro libro la trovate a pagina 374 e possiamo dire che al quarto tentativo finalmente troviamo una poesia tratta dal canzoniere di Petrarca in cui finalmente ci sia nominata, anche se in modo indiretto, la figura di Laura, perché finora noi abbiamo visto appunto tre poesie tratte da questo canzoniere ma in cui di fatto la figura di Laura non c'era mai, erano più che altro poesie in cui l'io lirico, cioè Petrarca appunto il poeta, rifletteva sul suo amore per questa donna e sui tormenti che derivavano da questo amore. Qui invece finalmente siamo, questa è la poesia numero 90 nel canzoniere, quindi siamo sempre nella prima parte, quella in vita di Laura, una poesia forse scritta negli anni 40 del 300 ma che vuole ricordare il momento in cui per la prima volta Francesco Petrarca aveva visto appunto Laura, ricordiamo un evento che si sarebbe verificato nel 1327, quindi verosimilmente questa poesia Petrarca la scrive una ventina d'anni dopo quel giorno che l'aveva segnato per tutta la vita. Ma in che modo Petrarca parlerà di Laura in questa poesia che adesso andremo ad ascoltare prima ancora che analizzare? Lo fa a modo tutto suo e in un modo nuovo rispetto alla tradizione precedente. È vero che Laura, lo vedremo in questa poesia, è descritta come una donna gentile, una donna angelo per certi versi, data la sua eccezionalità, la sua straordinarietà, però è comunque una donna collocata nel fluire della temporalità. Ancora una volta quindi anche questa poesia è costruita su un contrasto, su un dissidio. Abbiamo detto tante volte anche appunto nelle poesie precedenti ovviamente che Petrarca è il poeta dei contrasti. Ebbene qui noteremo un contrasto tra la visione di Laura folgorante ma ormai passata, perché appunto erano passati probabilmente vent'anni. Quindi il contrasto tra la dimensione del passato in cui il poeta ha avuto questa visione folgorante e la dimensione del presente, dove la visione si è offuscata e si è offuscata perché Laura è invecchiata e quindi non ha più la bellezza di un tempo. Tuttavia, malgrado la visione si è offuscata, vedremo nell'ultima terzina che chiude il sonetto, l'amore dice il poeta perdura, ecco, e continua a durare. Quindi la prima cosa che adesso facciamo, ascoltiamo, prendo sempre dal vostro libro, dalla versione digitale e ascoltiamo la recitazione di questo famosissimo sonetto, il numero 90 quindi del canzoniere. Francesco Petrarca Canzoniere Erano i capei d'oro a Laura sparsi Erano i capei d'oro a Laura sparsi Che mille dolci nodi gli avolgea E' il vago lume oltra misura ardea Di cui ben gli occhi corne sonsi scarsi E' il viso di pietosi color farsi Non so se vero o falso mi parea I che l'esca amorosa al petto avea Qual meraviglia se di subito arsi Non era l'andarsuo cosa mortale Ma d'angelica forma E le parole Suonavano altro Che pur voce umana Uno spirito celeste Un vivo sole Fu quel che vidi E Se non fosse ur tale Tiaga Per allentar d'arco Non sana Ecco, dunque abbiamo ascoltato la poesia Andando a rileggerla e a commentarla Allora, prima quartina Questo è un sonetto Quindi è ormai una forma poetica A cui siamo abituati Sempre con le consuete rime Incrociate nelle quartine E poi abbiamo delle rime Invertite nelle terzine Ma questo poco importa Allora, nella prima quartina Così come anche nella seconda Petrarca descrive le qualità fisiche di Laura Ma secondo il modello stilnovista In realtà è una descrizione convenzionale E indeterminata La differenza Lo vedremo poi appunto Alla fine della poesia E che comunque rispetto alle donne stilnoviste Laura è una creatura reale E che ha subito l'assalto inesorabile della vita Però la prima quartina è tutta nel passato Quindi Petrarca rievoca questo primo incontro In cui la bellezza di Laura era sfolgorante Vediamo un po' anche la parafrasi Notiamo che appunto nella prima quartina La descrizione fisica Per quanto vaga e indeterminata Riguarda i capelli Verso 1 E gli occhi Verso 4 Quindi I capelli biondi come l'oro Erano sparsi al vento Che Vento che Gli avolgea Cioè che scompigliava I capelli In mille innumerevoli Dolci Cioè morbidi Nodi E il vago lume Oltre a misura Ardea E brillava Ardea il verbo Oltre a misura Senza limini Senza limiti Il vago lume Di quei begli occhi Cioè L'affascinante splendore Di quei begli occhi Che or ne sono si scarsi Che ora Ne sono del tutto privi Ecco dunque Che in realtà Già nella prima quartina C'è un contrasto Tra il passato E il presente Nei primi quattro versi Fino alla parola occhi C'è una rievocazione Del primo incontro Ma La seconda metà Del verso numero 4 È invece proiettata Nel presente Lo capiamo banalmente Dall'uso Del tempo presente Son Il contrasto Tra passato E presente Anche il contrasto Tra la bellezza Sfolgorante Di Laura Nel passato E un presente In cui gli occhi Hanno perso La luce Di un tempo Notiamo tra l'altro Al verso 1 La presenza Di una metafora Di una metafora Classica Ma classica Perché in effetti È classica Da Petrarchi In avanti Cioè paragonare I capelli biondi Di una donna All'oro Capelli d'oro Quindi è una metafora Per indicare Il fatto che Laura È una donna Dai capelli biondi Quindi ecco Abbiamo un tratto Per quanto molto vago Fisico Di questa donna Gli occhi belli Che ora Ne sono si scarsi Quindi abbiamo detto No Questo tempo presente Comunica il fatto Che Laura Appunto A differenza Delle donne Stilnoviste Ecco la grande novità È una donna Che ha subito L'assalto inesorabile Della vita E del tempo Che passa E tra l'altro Dal punto di vista Ritorico Abbiamo detto Al verso 1 C'è una metafora Al verso 4 Notiamo Una Alliterazione Cioè Or ne sono si scarsi Vengono ripetute Le consonanti R e S Che sono suoni Ruvidi Aspri Per indicare Il fatto appunto Che il tempo Ostile Quando passa Fa sfiorire La bellezza E poi un'altra cosa Che notiamo In questa strofa Infatti è sottolineato Anche evidenziato Nel nostro libro Al verso 1 Laura È l'apostrofo Laura Noi quando abbiamo Introdotto Francesco Petrarca La sua vita Appunto Questa figura Di questa Laura Che era vissuta Realmente Ricordiamoci Una donna Realmente esistita Però abbiamo già Parlato del fatto Che fosse un nome Parlante Per il poeta Perché richiamava Il lauro L'alloro Quindi La pianta sacra D'Apollo La pianta della poesia E anche perché Appunto In questa poesia È molto evidente Petrarca gioca Sull'ambiguità Tra il nome proprio Laura E L'Aura Che è il vento La brezza vitale In realtà può essere interpretato anche Non in questa poesia Ma altrove Petrarca fa riferimento a Laura Come al sospiro Che è Come dire Un sintomo di un amore Non ricambiato Si sospira Quando pensiamo A un nostro amore Che magari è lontano Che addirittura Non ricambia Il nostro sentimento In questo caso Laura In questo contesto Petrarca dice Mi parea Mi parea Cioè La risposta è evidentemente Empatia Petrarca Ma di un angelo Nuova Nello stile Nello stile Della lode E lì Dante Appunto Aveva Creato Questo motivo letterario Della donna Angelo Riprendendolo da Guidizelli Però In quel sonetto Dante Aveva utilizzato Il tempo presente Perché aveva Raffigurato L'amata Come se fosse Davanti a lui In quel momento E quindi per questo Dante era ricorso A forme verbali Al presente Petrarca invece Qui Usa i verbi Al passato Consegnando quindi Questa donna Angelo Alla nostalgia Del ricordo Un ricordo Che vedremo Adesso nel finale Della poesia E custodito Gelosamente Dal poeta Però è un ricordo E quindi Ha ulteriore Conferma Che Laura È una donna In realtà Molto più terrena Di quella che era Stata Beatrice Ad esempio Una donna Ripeto Immersa nel fluire Del tempo Che passa Attenzione che qui Questo non è un ricordo Di Laura Che è ormai morta Perché qui Questa poesia Non sappiamo bene Ma è stata scritta Sicuramente Prima della morte di Laura Infatti Rientra nella prima parte Del canzoniere Però è stata scritta Quando Laura Ormai era Era invecchiata Uno spirito celeste Un vivo sole Fu quel Chi vivi E se non fosse Ortale Piaga per allentardar Arco non sana Ecco la conclusione Del sonetto Che dice Quello che io vidi Tempo passato Quindi Quello che io vidi Quel giorno Ecco Quel 6 aprile Del 1327 Fu uno spirito celeste Fu un angelo Una creatura Celestiale Un sole Incarnato Un vivo sole E se non fosse Ortale Piaga per allentardar Arco non sana E se anche Laura Adesso Non fosse più Come prima Un periodo ipotetico Che vuole dirci però Che Laura Appunto Non è più Quello spirito celeste E quel vivo sole Che era nel 1327 Piaga per allentardar Arco non sana L'ultimo verso Contiene una metafora Sulla base Della quale Il poeta dice Se anche Appunto Laura Non fosse più Come prima La ferita Dell'amore La piaga Non guarisce Non sana Soltanto Per il fatto Che La corda Dell'arco Si è allentata Quindi Una Metafora Che richiama Un'immagine Comunque Ultraclassica Immagine Di Cupido Che quando fa Innamorare qualcuno Scaglia una freccia Ora L'arco Che ha scagliato La freccia E che ha fatto Innamorare Petrarca di Laura Quell'arco lì La corda Di quell'arco Si è allentata Però Malgrado questo L'amore Perdura E infatti Dopo una serie Di tempi Verbali Al passato Notiamo Che la poesia Si chiude Con un tempo presente Sana Che significa Sanare Nel senso di guarire Con la negazione davanti Ovviamente Il non A dimostrazione A dimostrazione Del fatto Appunto Che Sostanzialmente È vero Il tempo passa Però Laura È ancora in vita E quindi Per il poeta In realtà L'amore Continua A durare Quindi Abbiamo notato Come In effetti Questa sia finalmente Una poesia Dove compare La figura di Laura C'è una Lode Della bellezza Di questa donna Che segue un movimento In qualche modo Ascensionale Tra l'altro Siamo partiti Dalle due quartine Dal mondo materiale Da una descrizione fisica Per quanto vaga Indeterminata E da una dimensione Quindi concreta Materiale Si passa A una sfera Spirituale Quindi Delle due quartine Qualità fisiche Con Però La presenza Appunto Già al verso 4 Della Dimensione Della temporalità Che quindi Rende Tutto ciò Laura Una creatura Reale Che subisce L'assalto Del tempo E poi Nelle terzine Invece Il discorso Che passa Più che altro Su un piano Spirituale Però Con la differenza Che abbiamo Specificato Che è molto Importante Quindi Come La donna Angelo In questo tema Stil novista Dantesco Viene reinterpretato Rielaborato Da Petrarca Si Laura E si Una donna Angelo Ma una donna Angelo Al passato E quindi È una donna Che in realtà A differenza Di un angelo È Sottoposta Alla Temporalità Quindi all'invecchiamento E al Cambiamento Perché Appunto Al verso 13 Lo dice Chiaramente Utilizzando Un periodo Ipotetico Una possibilità Ma Laura Non è più Quello Spirito Celeste Non è più Quell'angelo Che Apparve a Petrarca Il 6 aprile Del 1327 Però Ecco Il finale Precisa Anche Che L'amore Per Laura Non è stato Soltanto Un colpo Di fulmine Ecco Ma Continua A discapito Del tempo Che passa E che fa sfiorire La bellezza Dell'amata Bene Spero Che sia Come sempre Tutto chiaro Ricordo Che Diciamo Ci manca Ancora Soltanto Una poesia Che adesso Poi Andrò a scegliere Dal canzoniere Di Petrarca Dopodiché Settimana prossima Allora Procederemo A un compito Di scrittura Che consisterà Nell'analisi Di una di queste poesie Che abbiamo spiegato In queste video lezioni Ho creato Tra l'altro Questo proposito Anche Una playlist Specifica Sul canzoniere In modo tale Che andate A recuperare Facilmente Tutti questi video Un'analisi Quindi su Una di queste poesie Ma poi ci sarà Una domanda Uno o più domande Diciamo finali Che Con cui vi chiederò Di Collegare In un certo Qual modo Che insomma Sarà richiesto Nella consegna Tutti i testi Del canzoniere Che abbiamo spiegato In queste video lezioni E che a questo punto Quindi saranno Cinque Perché ce ne manca Ancora Soltanto uno Bene Vi ringrazio come sempre Per l'attenzione E quindi Ci sentiamo alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti